E' terminato a nottefonde il Consiglio Comunale di ieri, la seduta iniziata dopo le 16 si è conclusa a 1.45, il tempo si è notevolmente allungato anche su quelle questioni che dovevano essere sbrigative, a cominciare dalle nomine ASP per finire ad un ordine del giorno sulla pedonalizzazione del centro storico, nel mezzo il dibattito sulla situazione politica che ha infiammato gli animi. Quello che conta è verificare la tenuta della maggioranza, ha insistito su questo la minoranza con il consigliere di Sulmone Democratica Mimo Di Benedetto che più volte ha invitato il sindaco Peppino Ranalli a porsi una domanda per cercare di capire le ragioni che hanno spinto Santigli e Pantaleo a passare dalla maggioranza all'opposizione. Non ho più intenzione di correre dietro nessuno, ha detto il primo cittadino, perché se non ci sarà più una maggioranza andremo a rivotare. Il voto e risposta ha riguardato vari aspetti politici, dal ricorso contro le elezioni alle recenti regionali. Le posizioni restano distanti, altro che allargamento della maggioranza, perché non si intravede quella volontà che l'uno richiama all'altro. Si rimane pertanto con le differenti posizioni, da un lato i dimasciani e dall'altro i sostenitori del neoconsigliere regionale Gerosolimo, verso il quale il sindaco Ranalli si dichiara disponibile al dialogo nell'interesse della città, ma Mimmo Di Benedetto ha fatto pesare che se fosse difeso dal sindaco Sulmona non avrebbe avuto un consigliere regionale. A proposito della volontà espressa da Ranalli nella precedente seduta di assegnare incariche i consiglieri comunali, il primo cittadino ha annunciato di aver attribuito la delega alla protezione civile a Daniele del Monaco di pronti per cambiare. In precedenza il Consiglio è stato costretto a votare la variazione di bilancio per consentire la proroga di un mese del servizio rifiuti all'AM Consorzio, in seguito alla mancata esternalizzazione al Cogesa, che ora viene annunciata per il mese di ottobre. In merito all'interpellanza della minoranza sulla questione degli ex LSU, l'assessore Stefano Gotti ha spiegato che di fronte al diniego di diversi lavoratori in mobilità su 19 contattati dal Comune è stata una necessità dettata dall'urgenza assumere personale tramite un'agenzia interinale. La minoranza, non soddisfatta della risposta, fa sapere che potrebbe rivolgersi alla Corte dei Conti. A fine seduta sono stati approvati alcuni ordini del giorno, quello sulla pedonalizzazione presentato dal consigliere di maggioranza Valerio Gianandrea da mandato alla Giunta di procedere alle verifiche tecniche insieme alla Polizia Municipale per chiudere il centro storico alle auto dalle 17.30 del venerdì all'una del lunedì fino all'ultimo weekend di settembre. La discussione è andata per le lunghe in quanto Gianandrea con l'ordine del giorno intendeva procedere da subito all'applicazione del divieto di circolazione nei fine settimana. Prima invece di esporre la relativa segnaletica ed altro, la questione deve essere studiata tecnicamente.